La cosa più bella è quando quello che io ho in mente di realizzare per gli altri, gli altri riescono a percepirlo. La musica, almeno per come la concepisco io, l'arte in generale, non è una cosa che fai per te stesso. Quello che tu hai studiato, che tu hai fatto, che tu hai realizzato e concepito, hai bisogno di qualcun altro con cui condividerla. Basta soltanto una persona davanti a te che apprezzi quello che fai. Quando io penso a un musicista, per esempio, quando suona, devi essere in equilibrio, in equilibrio con te stesso, devi essere, sentirti comodo con te stesso, devi avere un equilibrio per trasmettere qualcosa in maniera efficace. Ecco, per me Wall Blanch è equilibrio. Ecco, per me, Wall Blanch.